Il caso della scuola Sandro Pertini di Fossalto, che vede coinvolti sette indagati tra amministratori, tecnici e imprenditori, è tornato in aula. Una vicenda che ha preso il via nel lontano 2009, quando l'attuale primo cittadino del comune molisano, Nicola Manocchio, chiuse la scuola e chiese la perizia per una serie di dubbi relativi alla sicurezza dell'edificio scolastico, plesso interessato da uno stanziamento di oltre 400 mila euro di fondi post-terremoto per il suo relativo adeguamento sismico. In aula a difendere il comune di Fossalto, parte civile nella vicenda, l'ex ministro e PM Antonio Di Pietro. I difensori degli imputati in aula hanno contestato il mancato accesso al sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, parlando di esclusione che ha violato le garanzie difensive chiedendo pertanto una nuova verifica. Nessuna opposizione da parte dei legali del comune che si sono detti favorevoli a una nuova ispezione con i rispettivi consulenti. Ad essere ascoltato in aula l'ingegner Maurizio Nerilli che ha descritto al giudice Scarlato l'esito dei primi sopralluoghi chiesti dal comune di Fossalto che nel 2009 gli aveva affidato l'incarico di verificare la congruenza delle opere eseguite con i progetti esecutivi. Dalla sola indagine visiva dichiarato Nerilli in aula sono state riscontrate una serie di difformità poi confermate da successive indagini su un campione di 11 pilastri che presentavano a detta dell'ingegnere rinforzi parziali, interventi non omogenei che avrebbero portato a una rottura alla base. Dunque né un miglioramento sismico né un adeguamento ma un peggioramento delle condizioni di sicurezza dell'edificio. L'esame di Nerilli è stato poi sospeso a seguito della decisione di effettuare un nuovo sopralluogo con i rispettivi consulenti fissato per la prossima settimana. Onorevole Antonio Di Pietro oggi qui in udienza per la scuola di Fossalto. Lei in aula ha più volte detto siamo per la verità quindi ci sarà un nuovo sopralluogo. Sono qui come difensore del comune di Fossalto che si è ritrovato con una scuola ineligibile perché da accertamenti tecnici che abbiamo fatto fare i lavori che hanno fatto ad avviso del tecnico che ha fatto questi accertamenti hanno addirittura reso più vulnerabile la staticità di questa scuola in caso di evento sismico. Ci interessa sapere se appunto questi lavori sono stati fatti in modo corretto o non corretto e se sono stati fatti in modo non corretto sono stati fatti per errore o perché qualcuno ci ha voluto guadagnare e speculare sopra. L'interesse è la verità. In questo senso io ho rimesso la toga da avvocato ma è chiaro che mi sento pubblico ministero che difende la collettività e l'incolumità di quei ragazzi di Fossalto. L'audizione del test riprenderà dunque il prossimo 8 febbraio. Grazie. Grazie.